grazie buongiorno amici sigla grazie grazie se no perdiamo tempo perché dobbiamo troppe notizie oggi signori simone di renzi renzi eccolo qua guardate che meraviglia renzi ecco la ricetta per il successo di renzi sono spesa lavoro e fiorentina eccolo qua per il grandissimo successo ma la vera ricetta ragazzi renzi ce la canta oggi qui a edicola fiore pronti se alle primarie mi votate un bel regalo vi farò come vi sani io vi stupirò la mia ricetta è pronta per salvare l'italia votami tagliere costi alla politica il senato leverò anche in europa un figo io sarò l'otto dicembre vota renzi il bello del pd votami allora ragazzi attenzione una critica a fabbio pazzo e noi non muoviamo nessuna critica a colleghi e a programmi televisivi ma ne muoviamo una a fabbio pazzo per conto di civati che è il terzo che si dico il terzo attenzione è uno dei tre candidati a essere segretario del pd civati che cosa ha fatto ironicamente si è registrato le domande e si è dato da solo le risposte quindi a fa si è auto intervistato roba posso dire che sempre esistite era quello che faceva berlusconi a porta a porta è vero avvocato è vero avvocato